Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi, nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che sono anche attiva su Facebook, vi lascio il link nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Corina Grisolia, detta Cora, nasce a Buenos Aires nel 1914 da genitori italiani immigrati. Nel 1926, quando Cora è adolescente, la madre, Anna Carena, la porta in Italia e si stabilisce a Firenze per farla studiare. Cora però non pensa molto allo studio, è distratta dalla nuova città, dai nuovi amici, dalla nuova vita. Insomma, i libri sono il suo ultimo pensiero e anche quando prova a studiare, non ci riesce perché non si concentra. Lascia quindi la scuola prima di ottenere il diploma e inizia una carriera da fotomodella. Finisce così per lavorare nello studio di un pittore. Alcune fonti raccontano quanto la ragazza fosse bellissima, alta, capelli biondi e occhi azzurri. Veniva chiamata la bella argentina. Altre fonti invece la descrivono come una ragazza non bellissima ma molto affascinante e sensuale. Quale che sia la versione corretta, Cora ha un fisico adatto alla professione scelta, tanto che viene ritratta senza veli anche dal pittore Carlo Parri. Però le interminabili ore che passa in totale immobilità la stancano presto e quindi, per continuare a mantenere il tenore di vita a cui ormai si è abituata, si trasferisce a Genova per farsi inserire nella lista speciale di una casa di appuntamenti. Cora non è però una passeggiatrice come le altre. È disponibile solo per uomini altolocati. Alcuni di loro si innamorano perdutamente di questa ragazza dal volto esotico, dal carattere forte e dalla personalità alquanto capricciosa, tanto da chiedere di sposarla. Cora non accetta mai, probabilmente si senta ancora troppo giovane per sistemarsi. La ragazza prosegue la sua attività fino al 1938, quando Clemente Mazzarello, uno dei suoi clienti, si innamora perdutamente come altri prima di lui. L'uomo è un facoltoso gioielliere che fornisce diversi negozi del centro di Genova. Ha sempre molti soldi in tasca e li spende volentieri per Corinna. Clemente, soggiogato fisicamente e sentimentalmente dalla ragazza, si mette in testa di volerla redimere, di farle cambiare vita, magari sposandola. Le fa dunque la proposta e lei, inaspettatamente, accetta. Si sposano il 5 ottobre del 1940. Cora quindi abbandona la casa di appuntamenti e si stabilisce a Genova, in un appartamento in via Morgantini. In pochi mesi, però, Corinna rivela la sua vera personalità. Dispotica, arrogante e attaccabrighe. Sua madre, che per un periodo rimane da lei come ospite, arriva addirittura a scappare, terrorizzata dalle liti furiose che si scatenavano in quella casa. Poco dopo, l'Italia entra in guerra e gli affari del gioielliere diminuiscono. D'altronde, chi mai, in quel periodo terribile, poteva voler acquistare gioielli? Clemente è perfino obbligato a firmare alcuni assegni a vuoto. È avvilito e depresso anche perché sua moglie, che non ha intenzione di rinunciare alle proprie comodità, si rivolta alla sua maîtresse di un tempo, chiedendole di inserirla nuovamente nella lista riservata ai clienti importanti. Per Corinna, quello è un ottimo modo per guadagnare tanti soldi in poco tempo. Ma soprattutto, per riprendersi la libertà che sente necessaria come l'aria e che ha perso dopo il matrimonio. Ha da poco messo al mondo un figlio, Mauro, ma non è affatto felice della sua presenza. Insomma, lo vede come un ostacolo per questa sua voglia di divertimento e spensieratezza. Il bambino piange, la madre lo lascia piangere, Mauro la cerca, ma Cora non è mai in casa. E soprattutto, se il piccolo si ammala, non viene curato. Sembra addirittura che qualcuno l'abbia sorpresa mentre scuoteva il termometro per dimostrare che il piccolo non aveva la febbre. E quindi lei sarebbe potuta uscire tranquillamente. Il marito è devoto, tenero e paziente, ma soffre. E tanto. È geloso, sia perché ha intuito che sua moglie ha ripreso a fare la passeggiatrice, sia per l'indifferenza con cui la donna tratta sia lui che il bambino. Poi, una notte, a Mauro si alza la febbre. I vicini quindi insistono perché venga chiamato un dottore. La donna, invece, chiama un amico dentista, che non è di nessun aiuto. E le condizioni del piccolo peggiorano. Viene portato all'ospedale in moribondo e, tra l'altro, Cora non riesce neanche a raggiungere l'ospedale perché, a quanto sostiene, non trova alcun taxi. La sera prima del funerale del figlio, Cora viene vista al cinematografo. Sostiene di esserci andata per dimenticare. L'unico ostacolo alla sua totale libertà è ormai solo il marito, che nel frattempo è stato richiamato in servizio e assegnato a un corpo militare di stanza a Genova, il che permette a Clemente di tornare a casa a dormire. Ma Corinna, non basta avere tutta la giornata a disposizione. Anche questa convivenza, ormai di poche ore al giorno, le sta stretta. Il marito decide di farla pedinare, ma Cora se ne accorge. Una sera in cui l'uomo deve rimanere in servizio in caserma, gli prepara un termos con del caffè latte e un forte sonnifero. Se si fosse addormentato invece di svolgere il suo lavoro, forse l'avrebbero arrestato o, quantomeno, trasferito. Questo è ciò che pensa Cora. Cora però fa un passo falso, decidendo di raccontare tutto alla domestica Maria Visconti, che spesso l'aveva coperta nelle sue uscite serali. Ma questa situazione è ben diversa dal coprire delle uscite notturne. Maria, forse spaventata o forse impreda un rimorso di coscienza, si tira indietro e spiffera tutto al marito. Ne segue, come è facile immaginare, una lite davvero furibonda. Clemente decide di affrontare sua moglie, dicendole con rabbia, che questa volta ha davvero esagerato. Cora, invece di calmarlo e di tentare di ottenere il suo perdono, afferra il coltello con cui la cameriera sta affettando il salame e si scaglia contro di lui. L'uomo riesce a disarmarla, ma ottiene in cambio un bel calcio al bassoventre, che quasi lo fa svenire dal dolore. Scenate di questo tipo ormai sono quotidiane. La situazione si ripete anche qualche tempo dopo. La coppia si trova a cena dal generale Grussardi, un amico di Clemente. Clemente fa una semplice osservazione che fa infuriare Cora, che inizia ad urlare. Il signor Grussardi tenta di calmarla dicendole, non lo faccia a casa mia, la prego signora. Ma la donna quando è in preda a queste crisi di rabbia, non ascolta nessuno. Perde la testa e ancora una volta sferra un calcio al marito, questa volta all'altezza dello stomaco. Clemente smette di farla pedinare, ormai si è rassegnato, loro due insieme non ci possono stare. Anche perché ormai è a conoscenza del fatto che Corinna ha un amante fisso. Il matrimonio è destinato a finire presto, ma Cora programma un piano. È certa che la morte tragica del marito le porterebbe tutti i suoi averi e finalmente potrebbe avere la garanzia di una vita agiata e senza alcun pensiero. Sì, Corinna Grisolia è certa, Clemente deve morire. Cora quindi torna nell'appartamento in via Morgantini e lì, il 17 febbraio 1944, suo marito Clemente viene trovato senza vita. Dopo aver scoperto il cadavere, il portiere corre a chiedere aiuto e mentre gli altri inquilini accorrono, telefona alla polizia. Successivamente torna in casa dove sente chiaramente dei lamenti provenire da una delle stanze. Prova ad aprire la porta, ma non ci riesce. Nel frattempo attorno a lui si sono raggruppate diverse persone. Ognuno dice la sua facendo gran confusione. C'è chi dice la porta è chiusa, un altro che no è incastrata e poi c'è qualcuno davanti alla porta. Dobbiamo spingere. Fatto sta che in mezzo a questo caos, alla fine, quella porta si apre e sul pavimento viene trovata Corinna imbavagliata e legata. I poliziotti appena giunti sul posto la liberano e le tolgono il fazzoletto dalla bocca mentre un medico constata il decesso di Clemente Mazzarello. La polizia nota subito che le corde che legavano i polsi e le caviglie della donna potevano essere sciolte con estrema facilità e che il bavaglio era semplicemente un fazzoletto molto largo annodato dietro la nuca. Sulla stoffa è rimasta l'impronta perfetta delle labbra di Corinna dipinte di rossetto. Questo contraddice la dichiarazione resa subito dopo ai poliziotti al quale ha dichiarato di aver cercato di liberarsi del fazzoletto con i denti. C'è poi l'enigma della porta della stanza da letto, chiusa dall'esterno, secondo alcuni, bloccata dal corpo della donna appoggiato all'uscio, secondo altri. Cora sembra sotto shock ma riesce ugualmente a raccontare cosa è successo. Erano le 12.40, stavano per mettersi a tavola e aveva cucinato le lasagne quando qualcuno ha suonato al campanello. Suo marito è andato ad aprire facendo entrare nella cucina due giovani. Corinna sostiene che Clemente li conosceva perché li trattava in modo molto amichevole. A questo punto Clemente le chiede di ritirarsi nella stanza da letto. Cora lo fa e solo a quel punto sente un grido soffocato. Si precipita in cucina e vede suo marito disteso a terra mentre i due lo sovrastano. Cora dinnanzi a questa situazione sviene e quando si riprende si rende conto di essere legata strettamente sul letto. Nell'appartamento vengono fatti i primi rilevamenti resi più difficili dalle orme lasciate un po' dappertutto da tutte le persone entrate in casa dopo il delitto. Cora nel frattempo viene portata a casa di alcuni conoscenti. Il giorno seguente, durante un altro sopralluogo, la polizia scopre le impronte lasciate dai piedi di Cora coperti solo da delle calze che vanno dalla cucina al bagno. Tornano in cucina e infine si dirigono nella camera in cui la donna è stata trovata. I conoscenti che ospitano la donna dopo l'omicidio, vedendo che non si riprende dallo shock, la portano in ospedale. Qui avviene il primo interrogatorio. Ma dopo le dichiarazioni rese alla polizia sul luogo del delitto, sembra che sia preda di un'amnesia. Corinna, insomma, non ricorda se il marito fosse già seduto a tavola oppure in piedi al primo squillo del campanello. Non ricorda chi ha aperto la porta. Non ricorda la fisionomia degli assassini. Non ricorda quanto è durata l'aggressione. Queste sono le parole che pronuncia durante l'interrogatorio. Quando mio marito rientrò in cucina, seguito dai due uomini, mi fece cenno che andassi di là. Coprì le mie lasagne con un piatto pulito affinché non si raffreddassero. Poi uscì chiudendo la porta della cucina alle mie spalle. Per un po' non accadde niente. Poi sentì rumori come di lotta e un grido strozzato. Corsi in cucina. Spalancai la porta e vidi mio marito steso a terra e tutto quel sangue. Senza curarmi degli altri mi buttai in ginocchio tentando di soccorrere Clemente e sollevandolo fra le mie braccia. Ma uno dei due individui mi diede uno spintone e mi disse sottovoce, ma con tono perentorio, taci, se no ti ammazzo. Va a prendere delle bende perché sono ferito. Cercai le bende, ma non le trovai. Non ne avevo in casa, forse. Tornai in cucina, ma l'uomo mi spinse nello stanzino da bagno e volle che gli pulisse il risvolto delle maniche sporche di sangue. A questo punto fui portata quasi di peso in camera, stordita, venne imbavagliata e legata. Mentre i due assassini mi legavano, non ho avuto il coraggio di gridare o di ribellarmi. Ero terrorizzata. Poi, quando mi sono svegliata nella mia stanza, mi sono trascinata giù dal letto e sono arrivata fino alla porta dove mi hanno trovata. Mi buttarono su uno dei letti, quello più vicino alla porta. L'uomo se ne andò chiudendo l'uscio. In quel momento suonò il campanello del telefono, ma ci fu solo uno squillo. Uno dei due assassini doveva aver staccato la spina. Poi se ne andarono e la casa tornò in silenzio. Viene interrogata a lungo sui due assalitori, ma non è in grado di descriverli, anche se deve aver guardato per forza da vicino uno degli assalitori, ossia quello che ha medicato. Inoltre, anche ammettendo che i due uomini fossero riusciti a salire al terzo piano senza farsi notare dal portiere come avevano potuto lasciare il palazzo dopo che questi era stato messo in allarme dai rumori che venivano dall'alto e si era affacciato alla guardiola. Ma non è finita qui, l'appartamento viene ritrovato in uno stato pietoso, il pavimento coperto di sangue, schegge di mobili e polvere di carbone. Le lasagne che avrebbero dovuto mangiare per pranzo sparse qua e là. Com'è poi possibile che i due fuggitivi non abbiano lasciato impronte sulle scale? Cosa ancor più strana, neanche in casa vengono trovate tracce. O meglio, se ne trovano davvero troppe, vista la gente che si è affollata dopo l'omicidio. Ma in effetti c'è una stranezza. Il percorso delle orme di Cora dalla cucina al bagno è ben visibile perché le calze da lei indossate erano intrise di sangue e polvere di carbone. Ma non è affiancato da un percorso parallelo di scarpe maschili. Eppure la donna ha affermato di essere stata condotta in bagno dall'assassino ferito a una mano, a cui doveva pulire il risvolto delle maniche. Che poi, in un successivo interrogatorio, diventa il risvolto dei pantaloni e non più delle maniche. Un'altra domanda. Perché Cora indossava solo le calze? La donna sostiene che le scarpe le si erano sfilate mentre correva in cucina dopo aver udito le urla di suo marito. Peccato che quelle scarpe sono state trovate sotto l'armadio della cucina. E questa scoperta contraddice le dichiarazioni rese da Cora. I giornali mostrano grande interesse per il caso, pubblicano le varie tappe dell'indagine e diverse foto di Corinna, che a quanto pare ha perso la sua bellezza. Appare infatti piccola, tozza, il volto gonfio, gli occhi sporgenti, di un azzurro sbiadito e dall'espressione vuota e spenta. Viene descritta dai giornalisti come una donna dall'intelligenza limitata, forse furba e abilissima a dire bugie, a recitare la parte che si è prefissata. Durante la giornata del 17 febbraio si svolge un nuovo interrogatorio che aggiunge qualche particolare. La mattina del delitto, Cora era rientrata a casa col marito dopo aver fatto la spesa. Passando dalla portineria aveva ritirato un fiasco d'olio e Clemente aveva con sé la sua borsa con una somma di denaro appena riscossa pari a 200.000 lire. Una volta casa si era messa in cucina per cuocere le lasagne al sugo mentre il marito si era seduto a tavola, allacciandosi al collo il tovagliolo. Questo fatto viene confermato. Le prime perizie rivelano dei tagli sul tovagliolo e dimostrano che l'uomo lo aveva addosso quando era stato ucciso. Il gioielliere ha ricevuto 43 coltellate, fra cui alcune estremamente profonde e per quattro volte è stato colpito alla testa con una bottiglia. La metà di quelle ferite viene considerata mortale ma solo la recisione della giugulare lo ha dissanguato in pochi minuti. Corinne era sporca di sangue ma non presentava alcuna ferita. Non si trova alcuna prova per incriminarla e così la donna riesce a tornare a casa dove lava e ripulisce tutto anche gli indumenti che portava il giorno dell'omicidio. Non riesce però a far sparire dalla vestaglia l'alone di una vistosa patacca rossa all'altezza della schiena. In un primo momento tutti avevano pensato fosse sangue ma poi dalle analisi risulta essere salsa di pomodoro. Gli inquirenti ritengono che debba esserci stato un litigio fra i due quel giorno. Magari l'uomo le aveva tirato addosso il piatto con le lasagne che infatti era stato trovato a pezzi sul pavimento. A questo punto si cerca il movente dell'omicidio. Una rapina? Cora ha dichiarato che quel giorno il marito aveva riscosso 200.000 lire poi scomparse. Ma se la colpevole fosse lei che motivo avrebbe avuto di uccidere l'uomo che la manteneva? Forse per gelosia? In effetti nel portafoglio di Clemente è stata trovata la fotografia di un'altra donna. Però la moglie non si è mai mostrata gelosa. Che arrabbia dunque durante un litigio? Possibile anche se di solito durante le sue crisi di furia Corinna aveva sempre avuto sufficiente autocontrollo da fermarsi in tempo. Tutte le volte chi aveva minacciato il coniuge con un coltello non aveva mai osato ferirlo. Per recuperare la sua libertà? Lui in realtà era incapace di proibirle qualcosa e lei faceva tutto ciò che voleva. Inoltre dopo l'8 settembre 1943 il gioielliere aveva ripreso il suo commercio di preziosi e aveva ricominciato a guadagnare. Ormai non aveva più debitori e non era costretto a firmare assegna vuoto. Non capiva infatti perché sua moglie continuasse a fare la passeggiatrice. Aveva chiesto il motivo e poi gli aveva detto che voleva o meglio esigeva rispetto da parte sua. Lei però a questa richiesta aveva alzato le spalle ed era uscita per andare a un appuntamento e da quel giorno lui aveva cominciato ad avere delle amanti come dimostrava la fotografia nel portafogli. Manca quindi un perché, il movente. Ma pur trovandolo chi può pensare che una donna così minuta e fragile abbia avuto la forza di uccidere un uomo tanto più grosso di lei colpendolo 43 volte e che abbia trovato il tempo di simulare l'aggressione e nascondere il coltello prendere i soldi mettersi il bavaglio staccare il telefono legarsi mani e piedi insomma i dubbi di certo non mancano. Un altro elemento che fa pensare è il letto. Corinna ha dichiarato di esservi stata spinta dall'assassino ma il materasso e il copriletto apparivano intatti privi di impronte e puliti nonostante lei fosse ricoperta di sangue. Insomma molti particolari concordano nell'accusarla però altrettanti la discolpano. La porta nella stanza da letto era chiusa dall'esterno un bottone ritrovato in cucina che non appartiene a nessuno dei coniugi ma soprattutto la mancanza del movente. Ebbene il movente lo rivela lei stessa qualche giorno dopo a una conoscente dicendole con spavalderia ora sono libera, ricca mi prenderò un amante e mi divertirò. Cora ha giusto appena iniziato a discutere con i parenti del marito dell'eredità quando viene arrestata il 27 febbraio del 1944. Il magistrato ha interrogato la domestica che è stata al servizio dei mazzarello. La donna racconta gli episodi del coltello del caffè latte con il sonnifero poi aggiunge che la sua padrone è una morale e viziosa contenta di andare con chiunque la pagasse e che in casa era violenta, aggressiva, prepotente. Parla anche di Clemente descrivendolo come un uomo gentile debole e generoso. Corina viene dunque rinchiusa nel carcere di Genova. Qualche mese dopo arriva al giudice istruttore una strana lettera scritta da un certo Antonio Buzurro anche lui in prigione. L'uomo comunica che un suo vecchio compagno di Cella Aldo Allia gli aveva chiesto di recarsi dopo la scarcerazione all'albergo federale di Genova per recuperare un anello che aveva rubato a Clemente Mazzarello prima di ucciderlo. Anche il presidente della sezione di Viareggio dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia aveva dichiarato che Aldo Allia prima di essere fucilato nell'estate del 1944 aveva confessato di essere l'assassino del gioielliere. Arriva un'altra lettera, questa volta da un italiano che combatte nella legione straniera, in Indocina, Luigi Martellosio. L'uomo scrive di aver fatto parte di una squadra partigiana e di aver scoperto che Aldo Allia, un giovane bruno con lunghi baffi spioventi, era un ex ufficiale della Guardia Nazionale Repubblichina e una spia dei tedeschi infiltrato tra i partigiani. Durante un'azione Luigi Martellosio aveva conosciuto l'ultimo amante di Aldo Allia. La donna gli aveva confidato in tutta segretezza che Aldo era stato in carcere per rapina e che i tedeschi l'avevano liberato in cambio della promessa di consegnar loro un certo numero di partigiani. Luigi Martellosio, che voleva essere sicuro della fondatezza dell'accusa, si era finto dalla parte di Aldo Allia. L'uomo si era fidato e gli aveva raccontato di essere stato l'amante di Corinna Grisolia. Aldo confida a Martellosio che il marito di Cora era molto geloso e che era stata proprio lei a fargli balenare in mente l'idea di toglierlo di mezzo. Luigi Martellosio riporta quello che Aldo gli aveva raccontato su Cora e sul delitto. Mi descrisse le ricchezze che teneva presso di sé e mi disse che, dopo averlo ucciso, avremmo potuto vivere insieme in agiatezza. In principio rifiutai, ma poi mi decisi e lo ammazzai a pugnalate. Colpì come un pazzo. Mi fermai solo quando vidi che non si muoveva più. Nessuno mi aveva visto e così potei filare tranquillamente senza essere disturbato. Nemmeno Corinna seppe che fui io ad ammazzare suo marito. Di lei non ho avuto più notizie perché, dopo l'assassinio, la piantai al suo destino. Da allora vissi di furti e di rapine, finché mi arrestarono per la rapina al dentista Pinacci. Dopo questo racconto, Aldo Alia gli aveva spiegato il suo piano per tradire i partigiani. Luigi Martellosio allora era andato a riferire tutto al suo comandante, che aveva ordinato la fucilazione del traditore. Lo stesso Luigi aveva fatto parte del plotore d'esecuzione. Tutte queste notizie bloccano l'inizio del processo contro l'indiziata e viene aperto un supplemento di istruttoria. Con ulteriori ricerche emerge però che Aldo Alia, sospettato di furto, era agli arresti in caserma proprio il giorno dell'omicidio di Clemente Mazzarello. Inoltre, nel suo racconto a Martellosio, l'uomo aveva dichiarato di trovarsi solo con la vittima al momento del delitto e questo contraddiceva palesemente la realtà dei fatti. La difesa, scorgendovi una possibilità a favore dell'imputata, vuole comunicare che Martellosio venga interrogato per rogatoria tramite le autorità consolari. Inaspettatamente però, l'uomo smentisce tutto ciò che aveva scritto e rilascia una versione totalmente diversa dei fatti. La sua deposizione viene quindi dichiarata inattendibile. Nell'aprile del 1945 in piena guerra civile le carceri di Genova vengono spalancate per dare la possibilità a partigiani politici di riacquistare la libertà. L'occasione è anche sfruttata da molti delinquenti comuni e così Corinna ne approfitta e si confonde tra la folla allontanandosi. Viene catturata qualche tempo dopo a Milano dove vive insieme a Vincenzo Barbaro un boss della malavita locale e rinchiusa nel carcere di Santa Verdiana. Nell'ottobre del 1950 compare davanti alla corte d'assise di Genova. Il suo comportamento in aula non aiuta i suoi avvocati si mostra indifferente distaccata cocciuta arrogante quando le viene comunicato che nel caso fosse stata approvata la sua colpevolezza la pena sarebbe stata l'ergastolo non batte ciglio tanto che il procuratore generale ripete la frase pensando che la donna non abbia sentito per tutta la durata del processo mantiene lo stesso atteggiamento imperturbabile durante gli interrogatori si contraddice e cambia versione e si impunta l'avvocato Tucci che la difende durante un'odienza esclama se Corrina Grisolia che io ritengo innocente si fosse decisa fin dall'inizio a dire la verità e a non baloccarsi con stupide quanto incomprensibili menzogne femminili questo processo non si sarebbe mai fatto il procedimento si conclude il 28 ottobre 1950 e l'imputata ritenuta colpevole viene condannata a 30 anni di reclusione la donna ascolta la sentenza con la solita espressione impassibile ma il volto è pallidissimo e gli occhi spalancati guardano nel vuoto durante il processo i giornali ricostruiscono lo svolgimento dell'omicidio i due coniugi erano rincasati a mezzogiorno Corrina aveva preso la bottiglia d'olio dalla portineria e una volta in cucina si era messa a preparare le lasagne poi si era seduta a tavola vicino al marito fra i due era scoppiato un litigio la donna si era alzata in piedi e l'uomo le aveva tirato addosso il piatto con le lasagne lei allora aveva afferrato la bottiglia del vino e lo aveva colpito ripetutamente alla testa lui si era difeso come poteva mentre la moglie lo accoltellava 43 volte i primi colpi erano stati sferrati alla cieca l'ultimo aveva reciso la giugolare e il sangue era zampillato per tutta la cucina come da una fontanella l'omicida era corsa in bagno nel tentativo di pulirsi il sangue dalle mani e dal resto del corpo e nel ripostiglio a cercare la corda con cui legarsi una volta in camera da letto si era imbavagliata e poi si era appoggiata alla porta con tutto il suo peso per far credere di essere stata chiusa a chiave dall'esterno il 21 ottobre 1953 Corina Grisolia compare dinnanzi alla corte d'appello di Firenze a difenderla sono gli stessi avvocati del primo processo viene ricostruito ancora una volta l'omicidio e di conseguenza vengono esposti i dubbi mai risolti la difesa ad esempio parla dei batuffoli di cotone intrisi di sangue trovati nel bagno Corinna dichiara di aver cercato di tamponare la ferita sulla mano dell'assassino ma se invece li avesse usati per ripulirsi perché usare dei piccoli batuffoli di cotone invece degli asciugamani alcune perizie dimostravano che il sangue non apparteneva al gruppo di nessuno dei due coniugi quindi di chi poteva essere quel sangue se lei non era stata ferita era sì coperta di sangue soprattutto quello sgorgato dal taglio alla giugolare inferto a Mazzarello che le aveva sforcato la vestaglia e bagnato il corpo fino all'attaccatura del seno ma non era il suo alcuni periti convocati dal procuratore generale dichiarano che il delitto doveva essere stato commesso da una persona sola e che l'imputata aveva la possibilità e la forza di compierlo dopo 15 minuti di sala di consiglio i giudici confermano la sentenza del primo processo Corinna viene riportata nel carcere di Santa Verdiana mentre i suoi avvocati avanzano in stanza per una revisione del procedimento la corte di Cassazione si riunisce a Roma il 12 maggio 1955 i difensori dell'imputata sostengono che il passato burrascoso di Corinna Grisolia aveva contribuito alla condanna il suo avvocato afferma la donna non poteva da sola compiere il delitto e improvvisare la messa in scena nell'appartamento di via Morgantini nella casa c'erano evidenti tracce di lotta come mai la moglie del gioielliere non presentava alcuna ferita quello della Grisolia si deve considerare un processo indiziario non vi furono elementi per provare che l'imputata fosse autrice del delitto l'avvocato Monteverde tutore dei diritti della famiglia Mazzarello si unisce alla richiesta del procuratore generale Polimeni perché il ricorso venga respinto l'avvocato sostiene i motivi presentati dalla difesa non sono validi Corinna Grisolia compila omicidio senza l'aiuto di terza persone per il tremendo delitto l'imputata deve scontare la giusta pena dopo una lunga riunione in camera di consiglio la Cassazione respinge l'impugnazione quello che i giornali continuavano a chiamare il processo delle nebbie viene definitivamente chiuso Corinna Grisolia deve scontare ancora 19 anni di carcere viene trasferita a Venezia da dove invia una lettera all'avvocato Luigi Vecchi di Bologna studioso di errori giudiziari l'avvocato fa delle ricerche e quando pensa di essere a un buon punto manda una domanda di grazia al presidente della repubblica Giovanni Gronchi nel frattempo la reclusa molto malata è stata trasferita a Perugia la vecchia mamma è l'unica persona cara rimasta ad assisterla la grazia chiesta nel 1959 viene concessa il 24 dicembre 1963 e Corinna viene liberata esce e scompare perdendosi tra la gente portandosi dietro la verità quella che solo lei conosce io ho finito di parlare in questo video fatemi sapere che cosa ne pensate di questo caso l'ho trovata davvero molto affascinante e interessante onestamente sono curiosa di sapere cosa ne pensate di Corinna è innocente è colpevole è stata aiutata non è stata aiutata fatemi sapere quello che pensate qui sotto nei commenti che sono molto curiosa detto questo io vi mando un bacione noi ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando fate i bravi continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici basta che non facciate nulla di criminale ciao a tutti ciao a tutti